state boni e a state boni stiamo calmi e si state boni perché è proprio in questi momenti di grande esaltazione che bisogna andare tranquilli per non rischiare tra un anno, come già successo, di ritrovarci con dei giocatori che diventano incredibilmente delle pitte e degli allenatori che invece diventano dei cialtroni l'unica vera nota di merito per me va al nostro allenatore Paolo Fonseca non perché abbia rivitalizzato Pastore e nemmeno perché abbia convinto Zeco a rimanere a Roma ma perché, come Rudy Garzia, ha preso questa Roma in quelle condizioni in cui eravamo quattro mesi fa non come altri che hanno detto ora non ci sono le condizioni necessarie e che oggi sono sopra di noi solo perché possono avvalersi di attaccanti da 70 milioni di euro ma nonostante tutto c'è sicuramente chi starà volando con questa Roma vi racconto la fiabba di Paolo Fonseca in questa fiabba c'è un calciatore di nome Mancini che inizia a fare il centrocampista in maniera eccellente poi c'è un calciatore argentino ormai dimenticato di nome Pastore che inizia a fare la differenza poi abbiamo il Prodo Scudiero ed Inzeco che in campo è sempre l'ultimo a mollare e poi, come in tutte le fiabbe, c'è il Principe Azzurro Nicolò che ci fa vincere a suon di gol e quindi, se i sogni a volte diventano realtà perché smettere di sognare? Forza Roma! Giovedì tutti in Germania per chiudere questo girone di Europa League e domenica poi a Parma Affettiamoli! Forza Roma!